Ragazzi benvenuti in questa nuova puntatona della nostra bellissima Mad Pack Episodio numero I don't know, credo sia Dovrebbe essere, se non sbaglio, il quindicesimo Sì, dovrebbe essere una cosa del genere E ho trovato lo spawner che cercavamo Tutto qua, tutto normale voi direte Sì, il problema è che dobbiamo comunque andare a uccidere un bel po' di amichetti Infatti per andare in Todark prima dobbiamo farci un sacco di robe Tra cui trovare 3 Skeleton Skull E sarà un po' difficile In ogni caso io vi invito a lasciare un bel pollicione in su Se il video mi piace, se vi piace, mi raccomando E lo spawner si trova qua Questa roba, nel dungeon Ho fatto già un waypoint Dovremmo essere più o meno in un posto decente Ehi, vabbè ovviamente sbagliamo sempre i posti Rompi Ok, perfetto E questo è lo spawner Allora dovrei avere un po' di Nelerak Ma le chiodo comunque la possiamo recuperare senza problemi E dobbiamo in qualche modo Utilizzare tutto questo piccone Perché è così più facile per noi Infatti sto anche laggando, non capisco il perché Poi lo scopriremo Creiamo un attimo una salita di qui E cerchiamo di entrare in questo bellissimo posticino Oh, bellissimo Abbiamo trovato John Blaze di... Cioè uno spawner di Blaze, va bene come cosa Come so che sono spawner di Blaze Perché in realtà tipo molto spesso succede sta cosa Che di qui ci sono gli spawner di Blaze Però io pensavo di uccidere più i... Ok Più le amichetti tipo interessanti Che sono i nostri cari amici scheletri Però Sempre se riesco a trovarli Vediamo un po' se abbiamo fortuna Allora Qui ci sono sicuramente i Blaze Oggi ci sono un po' di Blaze potenziati Bella merda Scappa signorisse, scappa Lì vedo uno scheletro, perfetto Già un inizio Eeeh, calmati Proviamo a scendere ragazzi Non so perché sto laggando Dove essere sincero ragazzi Non ne abbiamo idea E ok Allora Iniziamo ad andare Vieni qua amico amico Vieni Vieni qua Fatti vedere Affrontami da uomo a scheletro Vieni qua Ok Via qua Ok Ehi Che brutto quando scappa Ok Non mi ha droppato una beata a mazza Ci vorranno un'eternità a uccidere tutti questi scheletri Ok ho ucciso Ah Mi ha preso con la palla di fuoco Sarebbe utile tipo utilizzare altri mezzodi Per recuperare Le cose Le teste Però l'unico modo che al momento abbiamo ragazzi è questo Quindi Girerò un po' questa fortezza Troverò le tre teste Noi ci vediamo fra poco Appena ho trovato tutto necessario Ragazzi fate un po' C'è una cesta qua Con dei gold Figata Ehi ciao amico Amico blaze Mori Oddio Aia Ok Mi ha trovato un po' di roba Eeeh Eeeh Guarda come vengono qui Tranquilli Niente teste per il momento Bene cerchiamo un po' di teste ragazzi Da dopo Allora ragazzi ho avuto un'idea abbastanza interessante Visto che è difficile comunque recuperare un po' di oggettini da qui dentro Cioè dai nostri cari amici Eeeh Del nether Perché comunque infine sono potenti anche loro Ho deciso di fare una cosa abbastanza interessante Che potrebbe funzionare C'è la tinker Ok Potrei Farmi Eeeh Con la tinker Un paio di cose Mi serve un po' di legno Vediamo un po' Facciamone Eeeh Boh 7 8 10 11 va benissimo Mi serve dell'iron Che credo di non avere però Credo di poter comunque in qualche modo recuperare Ok Eccolo qua Oddio Aspettate mi serve un attimo Un modo per chiudere qua Sta cosa Facciamo così Ok Mi serve un po' di iron ragazzi Quindi prendiamoci Eeeh Tipo Una quarantina di iron Ok Magari ho preso un po' troppo Però facciamo finta che sia comunque utile Ok E ci craftiamo in questo modo 4 di questi 1 2 3 E 4 Bene Poi 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 Cosa mi serve Mi serve Vediamo un po' Vediamo un po' Eeeh Mi serve il forge Tool forge Tool Forge Eccolo qua Che si può craftare solo con i sherald brick Di quel tipo Non c'è altro modo E però si possono craftare facilmente A fine fine mi serve solamente Clay Sand E Gravel Gravel sand si fa Ok La clay invece La possiamo recuperare Se Utilizziamo qualcosa di utile Vediamo un po' Propolis No Non credo Niente Sta cosa è un po' complicata La fin fine In effetti non si può comunque fare Eeeh E' un po' un problema In effetti Sapete perché Perché era necessario Sta cosa Anche perché Vabbè in realtà Potevamo fare comunque la cosa Facciamo così Iniziamo in questo modo Questo Eeeh Poi credo di avere a questa parte Un paio di questi Elbark Ok Vediamo Vediamo un attimo se si può fare in questo modo Allora Uno e due Ok Ma comunque facciamo un po' di tinker Fin fine ci sta comunque Part builder Ok Part builder fatto Devo farmi questo qua Che mi serve di più Uno e due Ok Due station E per finire Uno di questo Più questo Opla Eccolo qua E abbiamo il nostro sensing table Ok Iniziamo un attimo Eeeh Non lo so sinceramente dove Iniziamo un attimo qua Facciamo qua Per esempio Ok Facciamo uno Due E tre Bene E qui dentro Possiamo andare a creare un po' di roba Dovete sapere che in realtà Per decapitare Si possono usare Tanti tipologie di oggetti Ora Credo La codice le parti Credo che la cosa miglia Oddio Perché non le fa vedere Alcune cose non le posso craftare Lol Adesso ve la clever serve Vedete Tipo Dice Che in realtà Vedi Natural abilities Ha già Beheading Beheading 2 Che Beheaders mode Ok Va bene come cosa The red is dropped as loot Ok Ovviamente Non mi dice come si possono craftare Però non lo sappiamo In sostanza Quindi non è un problema Ma nel fatto che Dovrei metterci sopra A parte il diamante Che è brutto e difficile Da recuperare Speed Autosmelt Luck A me serve Necrotic Silky Ok Reinforced No Beheading Ender pearl Ender pearl E ossidiana Ender pearl Non ce ne ho Vero Eh no Ovviamente Non li abbiamo recuperati In nessuna parte Non credo ci sia nulla Che vi possa Dall'ender pearl Perché davvero Ne ho tratto manco un pezzo Quindi sarà un po' Complicato Quindi nada Questa cosa non si può fare Nemmeno In ogni caso È davvero difficile Quindi Bella roba Beh Per il momento Facciamo così ragazzi Buttiamoci questa roba qui dentro Facciamoci 8 di questi Iniziamo 1, 2, 3, 4 e 8 Ok Mi serve Anzi quasi quasi Riusciamo a fare uno stack No non credo Una apple Mi serve E facciamoci una mela d'oro Così giusto per iniziare A farci un paio di cosette Interessanti Che si fa in questo modo Scommodiamo come si può fare così No si può fare Meno male Ok E a posto Me ne servono un paio 3 o 4 Li teniamo Perché possono essere utili Perfetto Andiamo ancora A ricerca di questi scheletri Ci vorrà un pochetto Sì lo so Però che se ne fotte Dai andiamo Vediamo un po' Se riusciamo a recuperarli Ok Sono riuscito a recuperare tutto C'è voluto un'eternità Ragazzi Guardate quanti osse Quanta roba c'ho qui Manco immaginate Ho recuperato Uno di questo Quasi quasi Se abbiamo fortuna E abbiamo culo Riusciamo a fare una cosa Molto bella Mi servirà bene anche l'alluminio Lasciamo stare Dai poi lo facciamo in futuro Mi servirà però A recuperare uno di questo Oddio Che diamine è sto rumore ragazzi Non ne ho mai idea Però c'è qualcosa di strano In questi strani suoni Allora quasi quasi Pensavo Ho avvenuto un attimo E' un attimo E' un attimo di recuperare sta roba Ok It's getting hot Bam Reward Vediamo un po' Che c'è qui dentro Wow Che belli World Figata Passiamo a questo Uccidi wither Lo sapevo raga Summon defeat wither in a nether Summon the wither Using soul sand Wither skull 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 Serve Della soul sand Ce l'abbiamo Cosa ce l'abbiamo Mi servono ragazzi Vediamo un po' Vediamo un po' Prima di tutto Quante osse abbiamo Poche Però possono bastare Un po' di collo Vendiamo un po' di ferro Oppure Vendiamo tutto ragazzi Vediamo di recuperare un po' di roba Tipo un'altra mela Ok E' sempre utile E' buono E funziona sempre Vendiamo questa roba qua Ok Arro No mi serve l'arro Mi serve bo Ok Un bo Durability massimo E delle arro Di arro ce ne ho un po' Sinceramente Tipo ne ho Un paio Credo di averne Allora una qua Qua ne ho un botto Sicuramente 23 Possono bastare Sinceramente Abbiamo Roba inciantata Più o meno Comunque la spada si è iniziata a rompere Sinceramente Non credimi come Ma si è rotta E abbiamo un sacco di Metrotik bombe inutili Allora So dove farlo sponare In realtà ragazzi Devo farlo sponare Nella miniera Ok Qui A posto Per lo semplice motivo Qui posso farmi Bucchi giganteschi Senza problemi Ok E devo farlo un po' lontano La visuale se lo puoi vedere Quindi nessun problema ragazzi Devo farlo un bel po' lontano Quindi dovrò Tipo scavare per un po' Ok Faccio un piccolo turno E ci vediamo fra poco ragazzi Ok Siamo pronti Spero ovviamente di poter riuscire a vincere Ok Ho comunque questa pala Che in realtà Ha un ottimo damage Comunque È un damage lontano Quindi dovrò riuscire in qualche modo A sopravvivere Facciamo in questo modo Molto semplice Almeno riusciamo a uccidere qualcosa E adesso Mi toccherà fare in questo modo Prima di tutto Oddio La dracca Ops Ho bisogno del piccone Aspettate Ok Facciamo così Ok Cibo ce l'abbiamo Dovrebbe bastare Per il momento Facciamo così Ok Chiudiamo un attimo qua Andiamo così ragazzi Uno due E tre Bam Ok scappiamo via Kean 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 Chi Cristo è Kean Me la doro ragazzi Ok dura poco però Dovremmo riuscire a fare qualcosa Oh merda Sì che fish No 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 Sì che fish Ragazzi Sì che fish Non le avevo Per niente Calculati Dove sta andando Lo stronzo Sta prendendo un po' di danno Sinceramente Ok Oh merda Oh merda Perché prendo danno Sta risugiando un po' tutto Va bene Questa cosa è abbastanza stupida Perché lui è scemo Oddio Ok Dovremmo riuscire in qualche modo a ucciderlo Non è stata un'ottima idea Quello che abbiamo fatto Però alla fine ci sta comunque Il namo Ok Mi serve un piccone Mi serve Veloce Ok Vieni qua No ragazzi Non piglia più botte Dovemmo attaccarlo con questo Dovemmo attaccarlo In realtà non è che non piglia più botte Speratamente è bugato Perché l'altro lui sta più sopra Ok Ehi Ah Vediamo un attimo di salire qui dentro Perfetto Cerchiamo di beccarlo Se riusciamo In qualche modo E no Mi sa che è stata una pessima idea Ehi ehi Non morire Non morire Piccolo amico Non morirmi Non morirmi Non morirmi Ragazzi Devo tirarlo a danno Devo tirarlo Solo che sarà abbastanza complicato Come facciamo Bella domanda Prendo di tutto Mi serve un po' di cibo Oddio Mari Cerchiamo un attimo Di rompere un po' di questa roba Magari tipo Inizia a camminare così Vieni qua Vieni qua Aia Bravo Vieni qua Vieni qua Bravo Vieni 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 Non riesco a colpirlo Ho finito pure le frecce Ho finito Dai Diamine Ok Facciamo questo Facciamo Oddio Sì via fish di merda Sì via fish di merda Sono una cosa fastidiosa Ragazzi Piffu fish Ok Come lo uccido ragazzi Ragazzi Proprio in tutti i modi Da un attimo come riesco a farlo Ucciderlo In qualche modo Non riuscirci Ragazzi Li rimane La vero poca vita Sto per andato a ucciderlo Cioè Mi ha ucciso Non so quante volte Quanto deve essere morto Fra poco Morto Oddio Che Cristo era Ragazzi Ragazzi Non so Cosa diamine È successo So soltanto Che sto morendo E se non mangio questo Se nella merda Ok Ok What the fuck Che macello Che macello Torniamocene a casa Torniamocene a casa Qualcosa da recuperare? In realtà Sì Questo è un po' Di queste cose Mi vedete Oh Ne hai da star pure Vuole un botto Ne hai da star Un botto Ok Casa 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 Torniamo Ok 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 Allora Nera qui dentro Abbiamo un sacco di minerali Anche qui dentro Wow Tanta morte Tanta delizia Insomma Mi piace Abbiamo comunque fatta E dammi un po' di cibo Va che sto morendo anche Wow 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 La mamma è tipo Stradistrutta Ho preso un sacco di botti Ragazzi È una cosa tremenda Credo Credo di non aver perso nulla Sì Non avevo perso quasi nulla Meno male Meno male Questo Questa qua la buttiamo qui dentro Adesso va Butta Un botto di money Ok Vediamo un po' È andata Vediamo Wow Ragazzi Abbiamo la reward bag Con un po' di roba dentro E adesso Adesso Into the dark Unnamed Kill Benemuth E collect Some of their Elfire charge Ma Non so se ho finito Cioè Dovrebbe avere uno sbloccato Dici Può darsi In effetti Abbiamo fatto la challenge Ok Ok Facciamo così ragazzi Allora Io Ok Io assistiamo un attimo Le chest Ci vediamo fra pochissimo Ok Poi andiamo a vedere Se siamo arrivati Nel into the dark Oppure no Anzi ragazzi Io vi saluto Per questa puntata Noi ci vediamo Nel prossimo video In cui andremo Finalmente Into the dark E vedremo un po' Che diamine È questo nuovo mon Anche se Penso che sia il deep dark Ma vedremo un po' Com'è Nel di caso Vi saluto Da Ulisse è tutto Ciao ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie a tutti.